Ci siamo spostati nello studio 2 di Teleantena per lo spazio dedicato a Piazza Grande, ospite quest'oggi Alessandro Kraut, portavoce dei Verdi ed esperto finanziario e con cui parliamo di quelle che sono le notizie degli ultimi giorni nel campo del riciclaggio di denaro da parte della criminalità organizzata a Trieste. Kraut, visto anche il nostro passato, non le pare che siamo a livelli del sud, di una volta dove si diceva che la mafia non esiste? Beh, sicuramente questa è stata una città che nel corso degli anni è servita un po' come trappani in Sicilia, cioè non si doveva ammazzare, non si doveva fare scalpore, non si doveva fare rumore e si faceva, e si continua ancora adesso a fare, affari poco puliti. Sicuramente nel corso degli anni, soprattutto con certe gestioni poco trasparente da parte della politica di allora, sono state fatte delle azioni che possiamo considerarle tranquillamente di stampo mafioso. Anche se non ho buona memoria, e mi correga se sbaglio, all'epoca degli amici della Terra, voi avete fatto scoprire all'antimafia triestina giri di soldi per circa 3 miliardi di euro di tangenti in 10 anni. L'antimafia nazionale, perché l'antimafia triestina all'epoca faceva, si concentrava su altre cose, e quindi mi ricordo che più o meno siamo su intorno a quelle cifre, perché c'erano delle operazioni immobiliari che sono state realizzate, e anche quelle che poi dopo sono state realizzate quando sono cambiati anche i proprietari, quindi erano dei proprietari che non si possono sicuramente considerare di stampo mafioso, ma persone, appunto imprenditori, persone per bene che hanno fatto delle operazioni immobiliari, però all'epoca stiamo parlando di progetti immobiliari che erano veramente strani, strani perché non avevano nulla di imprenditoriale, e quindi erano operazioni che secondo noi, e secondo anche l'antimafia nazionale, e tra le cose anche l'Unione Europea, l'Olaf e non solo, erano delle operazioni che erano poco chiare. Però io tengo a fare una precisazione, visto che stiamo parlando di questi argomenti che sono anche un po', sono molto delicati. Dobbiamo stare anche molto attenti quando usiamo la parola mafia, perché la mafia non è soltanto quello che intendiamo noi, ding, 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 uè mamma santissima, ecco, qui stiamo parlando di soldi, di investimenti, di operazioni che servivano per riciclare denaro di incerta provenienza attraverso dei progetti non necessariamente soltanto immobiliari, ma anche di altro tipo. E quindi questo noi lo possiamo considerare mafia, ma non è detto che sia soltanto la mafia, così come noi la conosciamo. Probabilmente Trieste nel corso degli anni è stata una città che ha avuto degli interessi anche da parte del livello veramente dei mamma santissima, superiore ai mamma santissima, cioè quelli che gestiscono il denaro, ed era l'obiettivo di far passare attraverso Trieste con banche amiche, c'era anche il progetto, l'obiettivo era quello di far passare all'estero soldi di incerta provenienza. Ecco, tutto qui. Quindi a suo avviso le contestazioni di oggi e da poveracci in conto all'epoca? Ma più che altro, più che da poveracci, io direi che sicuramente adesso c'è un procuratore della Repubblica che è molto attento a certe indagini e soprattutto sta cominciando a conoscere in maniera approfondita l'humus culturale ed economico di una parte della città. Ecco, appunto, abbiamo quasi anticipato la domanda che volevo farle. Come mai, secondo lei, oggi si scopre questo sommerso? E la capacità di un bravo procuratore capo come Mastelloni, che di certo non si può dire che stia a scaldare la sedia del suo ufficio. Sicuramente abbiamo un procuratore della Repubblica che è una persona che appunto ha intenzione di indagare, cioè vuole fare quello che è il suo mestiere, che è il suo lavoro. La domanda vera che bisognerebbe farsi è perché nel corso degli anni, anche quando si arrivava a determinati interessi, si arrivava vicini a determinati interessi, poi alla fine tutto quanto andava a finire a tra luce e vino. Però qui si aprirebbe un vaso di Pandora che forse è meglio non toccare. Non le fa un po' sorridere il fatto che il locale coinvolto sia di fronte alla procura. Era un po' come negli anni 90, che sul tetto, a lato della questura, c'era una maxi piantagione di marijuana e nessuno se ne era accorto. Ricordiamolo che questo era anche stato pubblicato sul quotidiano locale dell'epoca a Trieste oggi. E non soltanto sul quotidiano locale, cioè su tutti i quotidiani, su tutti i mass media. Infatti mi ricordo che all'epoca ero responsabile dei giovani socialisti e si facevano tutti quanti le battute dicendo dove andate, cosa andate, andiamo a mangiare la pizza, c'è da, siete sicuri di mangiare le battute così tra amici. Però, insomma, se posso fare una battuta direi che, insomma, per anni c'è stato lo studio di Camber vicino alla procura, vicino al tribunale, insomma, tutto quanto andava avanti tranquillamente. Con questo ovviamente non voglio dire una battuta, però sicuramente gli interessi negli anni 90 e all'inizio degli anni 2000 tutti gli interessi della città sono passati attraverso lo studio di Camber. Però, adesso, al di là della battuta, io credo che lì non c'entra più di tanto, non è che una procura della Repubblica, non è che un tribunale può controllare tutto. Può anche succedere che, ovviamente, insomma, anche perché poi alla fine, parliamoci chiaramente, sì, c'era la piantagione di Maguana, però la procura della Repubblica e i magistrati hanno indagato, poi immagino che siano stati arrestati oppure abbiano fatto le azioni giudiziarie necessarie per debellare quel traffico. Almeno me lo auguro. Alcuni anni fa in Viale vennero bruciati dei tavolini e delle sedi di un bar di proprietà di un gruppo non triestino, ma ben radicato in città. Fu una situazione alquanto strana. Potrebbe centrare qualcosa o solo ipotesi fantasiose? Boh, questo non ho la più palida idea, sicuramente, però in questa città c'è un mix di interessi occulti, c'è un mix di interessi semiocculti, ci sono delle angherie tra commercianti che anche qui, insomma, bisognerebbe aprire un vaso di Pandora che forse è meglio non aprire, perché se vogliamo parlare delle ultime settimane, degli ultimi giorni, degli ultimi mesi, io continuo ancora a domandarmi com'è possibile che in una città che si duole definire città turistica, ogni volta che ci sono dei nuovi locali che aprono e che sotto certi aspetti hanno anche l'interesse a fare un po' di musica, volume alto e cose di questo genere, ogni volta ci sono i vigili urbani, c'è la denuncia dei cosiddetti cittadini e poi dopo alla fine si scopre che magari qualche concorrente gli dà fastidio che ci sia uno più bravo di lui. Con questo ovviamente non voglio dire che il problema non esista, è evidente, la movida è una cosa, le angherie tra commercianti sono un'altra. Speriamo che in questo caso ci sia un qualche cosa, come dire, sia stato solo un'angheria. Poi ripeto, il problema è sempre quello, no? La sera delle elezioni, in parso, Cosolini andò a consolarsi con il suo staff da peperino, se vogliamo dirla tutta, per cui ci vanno dentro, voglio dire, ci vanno tutti, ci sono stato anch'io da peperino, non è che tutti quanti quelli che vanno lì sono mafiosi, insomma. Quindi, e anche secondo me su queste indagini bisognerebbe fare del, ecco, bisogna cercare di essere chiari e soprattutto di essere onesti intellettualmente. Qui dobbiamo aspettare che le indagini vadano, proseguono. Il dato positivo, secondo me, che va detto proprio per la mia esperienza che ho come ex Presidente degli Amici della Terra, per quello che avevamo denunciato e quello che avevamo detto in anni dove era veramente difficile fare determinate indagini e dire determinate cose, è quello che è importante, che però per il momento possiamo dire che almeno adesso iniziano ad esserci indagini di un certo tipo. In conclusione, Clout, tra Coop, pizzerie e appalti, ci spiega che differenza c'è tra Trieste e ad esempio Palermo o Napoli? La differenza è che qui teoricamente non si uccide, ci sono però ogni tanto dei finti suicidi che gridano vendetta e che obiettivamente spero che si inizi a indagare anche su questi cosiddetti finti suicidi che nel corso degli anni sono avvenuti. Io mi ricordo sempre, adesso faccio un esempio, non conosco bene la situazione, non so nulla, però io mi ricordo sempre, quello proprio mi è rimasto impresso di quel povero finanziere che in Porto, che è il Porto Nuovo, non ancora più dove, si è suicidato sparandosi due volte e quello che a me veramente aveva colpito era vedere come questa notizia passò, non dico inosservata, ma quasi e io credo che forse bisognerebbe farsi delle domande su che cosa succedeva in quei periodi, dove io purtroppo ho pagato anche personalmente con le azioni che avevamo fatto con l'Onici della Terra, però noi avevamo denunciato vari tipi di riciclaggio, varie cose che erano successe. Per fortuna speriamo che i tempi siano cambiati, speriamo che le cose siano un po' migliori, ma dalle indagini che ci sono e da quello che potrebbe scaturire queste indagini attuali forse, forse allora vuol dire che sta continuando un certo mondo sommerso in questa città. Se vogliamo dirla tutta, all'epoca mi ricordo anche che erano uscite fuori, avevamo iniziato a trovare, non dico delle prove, però delle sensazioni che molti politici di allora, che sono ancora adesso attivi, avevano dei gruppi, dei pacchetti di voti che sicuramente erano dei voti non dati per simpatia politica. Quindi vediamo quello che succederà. Io credo che questa comunque è una città dove, come dicevo prima, siamo un po' come Trapani, non deve accadere nulla e se accade qualcosa sicuramente deve essere fatto nel silenzio più totale. Grazie ad Alessandro Kraut, grazie per l'attenzione e alle prossime edizioni del TG.